Lo sblocco delle quote della Green Sports, società che detiene il 60% di Teramo Calcio SRL, riapre qualche speranza per il club bianco-rosso in vista del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni che sarà discusso questo lunedì nel primo pomeriggio. Nella dirigenza terramana c'è l'auspicio che il riprendere la totale autonomia gestionale possa convincere i giudici a dare una chance al Teramo di mantenere la Serie C. Il ricorso della DCF Legal degli avvocati Cesare Di Cintio e Federica Ferrari continuerà a far leva sull'impossibilità del management di agire a pieno regime nella soddisfazione di tutti gli adempimenti previsti per l'iscrizione entro il termine perentorio del 22 giugno proprio per la presenza del Tribunale di Roma che aveva la custodia delle quote di maggioranza. Oltre a ciò, prima dell'udienza di lunedì pomeriggio, i legali produrranno una ulteriore memoria nella quale si sottolinea l'avvenuto sblocco delle quote fatto verificatosi la mattina di martedì scorso all'indomani del termine per la presentazione del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni inoltrato lunedì. I legali chiederanno anche una direzione dei termini per poter sanare le omissioni rilevate dalla Covisoc. In realtà un obiettivo è stato già raggiunto, il piano di rateizzazione delle annualità pregresse dell'IVA chiesto il 20 giugno ma ottenuto oltre il termine perentorio del 22, cioè il 5 luglio. Lo scoglio più alto resta dunque il ripienamento dell'indice di liquidità per una somma che sfiora il milione di euro e che scende a 812 mila euro volendo includere il saldo attivo della campagna trasferimenti. Nei piani di Davide Ciaccia c'è la cessione del 60% delle quote di Greensports all'imprenditore Giuseppe Spinelli che anche nell'intervista rilasciata ieri al messaggero ha confermato la sua disponibilità. Resta da capire se sarà realmente disposto a sostenere una spesa così onerosa senza avere la certezza di poter disputare la Serie C, unica categoria a cui l'imprenditore siciliano d'origine e che opera alle porte di Roma è interessato. Insomma un piccolo spiraglio c'è ma la battaglia per tenere la C resta estremamente complessa. In caso di esito negativo al CONI ci sarebbe poi la giustizia ordinaria e quindi il TAR ma a quel punto il sindaco Gianguido d'Alberto che segue da vicino l'evoluzione della vicenda potrebbe rompere gli indugi, imprimere un'accelerata alla procedura prevista dall'articolo 52,10 dell'Enoif e chiedere al presidente federale Gravina, con cui giorni fa c'è stata una prima chiamata esplorativa, un titolo per l'iscrizione in sovrannumero di una nuova società nel campionato di Serie D, selezionata dallo stesso primo cittadino dopo un apposito bando e previo il rispetto di determinate prescrizioni economico-finanziarie. Tutto passa per il verdetto di lunedì.